Peugeot 301, 302 e 304. L'unico modello mancante della gamma 3 è proprio la 303. Dopo la produzione della 302 terminata all'inizio della seconda guerra mondiale, il marchio del leone lavorò a modelli che furono presentati dopo il conflitto come l'innovativa 204 e la 404. Nessuna versione intermedia in quel periodo. Per rivedere un 3 bisognerà attendere fino al 1969 con la Peugeot 304.